Buongiorno a voi, alla GTG Express. Continuità territoriale. L'arrivo in Roma, 8 in dia per presentare le domande. Tecchino casa, assassare novità per il mercato immobiliare e i creditissimi. A Reus, presentata nuoro, il direttore generale Lenzotti. A Gualdiagran, manca l'arrivo nella casa. Maschetti, gabbetti, pelt e osier. La tua storia è unica, come te. Raccontala con i nuovi vasetti Nutella. Milioni di combinazioni diverse per parlare di te. Nutella, come te non c'è nessuno. Ben trovati alla GTG Express, l'appuntamento di quotidiano all'informazione dell'Algero Channel. Salute i amici catarans. Ascavo avui a Ratalda, la presentazione delle domande per le offerte di parte delle companie aeree, BlueWire, S-Jet e Ryanair, Antara Saras per la tratta all'Iroma. Nell'ufficio dell'assessorato regionale di Traspolsa a Cagliar vengaranno beltas e bustas. Milareng, chi ha risposto al convite della regione. La rigenerazione dei malcati dell'immobiliare dei crediti. Novità e aspetti sociodemografici. La conferenza giornalistica organizzata a Sassar del gruppo Tecchino Casa e Tanguravui nella sala dell'hotel Leonardo da Vinci. Grandes novità nel campo immobiliare i crediti. Quando comprare una casa a Sassar a Malmuto costa a meso manco 40% di manco rispetto al 2002. Giorno era importante per la sanità di Salda, per Nuoro e per il territorio. Giorgio Lenzotti completò la squadra dei direttori generali delle aziende del sistema e dell'organizzazione sanitaria Salda. L'ha dichiarato l'assessore regionale della sanità Luigi Arro, presentò ufficialmente a Nuoro il primo direttore generale dell'azienda per l'emergenza urgenza. Giorgio Lenzotti. Arro ha precisato che la tria è stata affetta tenendo conto della complicità della sfida. Avere ricevuto un'allamenta di una ascoltadora, dicendo che la settimana passata a Gualdiagran es mancara l'acqua per quattro dias nelle casas. e questa è stata passata. Manca anche a voi. A voi, al Maiti, i cittadini chiedono al Comune che controlli l'operazione di Abba Noa e che domani mesi interventi da parte del gestore unico. Ora vi faccio la regia e le faccio in diretta. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market Nel campionato di promozione maschile FIP, la Gabbetti al Gherito pelta Ussier 79-69 contro l'80 basket di Ussier. Nella quarta giornata di gara, entra al Gherito il secchio a 15 punti, e il Gialman e il Miedo a 14 punti. Carau Pelusier 20 punti per Salvatore Corredo, 6 per Mastino e 11 per Porco. Curiosità di voi. Parlando dell'alimentazione tradizionale al Gherito, la Scabèche, lo Svelto Saracol da Ancara, è una Gliara Branca, fatta ma seba originaria della Catalunia, la Rassetta, il Comune d'Italia Meridionale e anche a Liguria, amparare per condire pesce e cal, con la Gliara, con la Gliara Valmel, la Scabèche s'abuida ben carent, ad amonti dell'alimenti frigiti o bulliti, gli ingredienti, seba abbondanti, al, agli or, giunivelt, preba, ori, vinagre e vi. Sacou, con la Gliara Valmelia, però senza fumata e senza conserva. Per questa vostra generazione, un film a suoi, i pregontasi, possiamo contattare la pagina Facebook del Gliaro Channel. Ora la sua previsione del tempo per domani, a Moseura. quandimba dei segni. La mia famiglia è alimento, c'è quello che acc比如 la guetta, prophets e angels, ieri e velori e sinceri, ieri e ha dei miei e di più, Apoio, la mia famiglia, chiara, Grazie a tutti.